Sono Piergiro Mattanasio per il liceo classico Manara, abbiamo qui il capitano della squadra Scalpelli. Cosa ci dici della partita, insomma? Abbiamo subito una brutta sconfitta, ci dispiace, però almeno due giorni di scuola abbiamo saltato. Pasqua invece che ne pensi del fattore pioggia? Quanto è contato? Come ho detto, poco, perché comunque all'inizio era equilibrata la partita, abbiamo preso un gol per una svista difensiva, però per il resto la partita è stata abbastanza equilibrata. Solo alla fine credo che abbiano avuto una supremazia sia sul campo che fuori, con qualche pizza che volano. Landolfo invece, quanto è contata secondo te l'assenza del capitano e se vorresti dirgli qualcosa? Fondamentale l'assenza del capitano che ha trascinato la squadra all'andata, ci ha fatto vincere. Adesso che è mancato si sentiva in campo, sul campo pesante, in difesa abbiamo avuto qualche problema per un'espulsione tra l'altro stupida all'andata, quindi è andata così questa volta. Desio invece qualcosa in generale sugli avversari e sulla partita? Io posso dire che noi siamo scesi sottovalutando l'avversario, abbiamo visto all'andata abbiamo vinto 2-1, forse un po' fortunosamente perché comunque ci hanno schiacciato anche all'andata per un po'. Invece qui alla seconda partita, dalla tre quarti in poi, non c'è stato proprio gioco da parte nostra, non siamo riusciti a fare un tiro in porta e quindi è logica conseguenza che abbiamo perso. Mentre una domanda, ma padrone invece, si è sentita un po' la sua assenza, in un certo senso non concreta però, di anima? Ma no, ha giocato bene, ha fatto il suo, ci piace così. È mancato un po' tutto all'attacco in questa partita, siamo stati un po' troppo schiacciati nella nostra metà campo, a un certo punto noi non riuscivamo più a salire, non superavamo più la nostra metà campo e per questo abbiamo preso tanti gol. Allora, Valerio Canini del Pio XII, cosa ne pensate del nuovo modulo che avete avuto per questa partita? Mi pare che la partita è stata bella, il modulo l'abbiamo interpretato bene con la difesa schierata a tre, è fatta veramente bene, non pensavo potessimo giocare in questa mera. I centrocampisti con l'aiuto di Mattia e dell'altro centrale Mome per nome, ha giocato bene con anche il supporto dell'attacco, infatti siamo riusciti a fare i cinque gol, veramente meritata come partita. Che cosa ne pensate? Beh, siamo trovati benissimo, ognuno occupava i propri spazi e si inseriva benissimo, non abbiamo concesso niente agli avversari, abbiamo sempre attaccato, siamo riusciti sempre a sfondare e a fare i gol, siamo arrivati anche a quattro gol, tutto è andato bene. Rispetto all'altra partita sicuramente avete giocato meglio, che è cambiato? A parte che è cambiato il modulo, poi secondo me è cambiata anche la grinta, la voglia di giocare e l'unione che c'era della squadra, meno individualismi c'erano e abbiamo veramente giocato bene, non mi aspettavo una partita del genere su un campo che nonostante tutta l'acqua che ha fatto era in discrete condizioni.